La signora Licazzi Noi a Comis avevamo un falegnano che a un certo punto ebbe l'arteriosclerosi e diventò poeta è un ottimo modo per diventare poeta nel senso che lui metteva le rime baciate ed era uno spasso dei giovani di allora poi si trovava questo fra l'incubio e il martello perché da una parte doveva tenere a bada i giovani universitari che lo prendevano in giro e a un certo punto quando io scrisse anche delle poesie mi ressi conto che la cosa non funzionava molto bene ma sarà il caso che sono diventata anch'io come Don Giovannino Salerno senza bisogno di arteriosclerosi e poi invece ho fatto leggere queste mie poesie a Bufalino in cui mi ha assicurato che non sarei venuto a leggere le sue cose che avevamo diversi comunque parliamo un po' di briciole ed è un bel libro che parla della nostra provincia in particolare un po' parla il periodo quando sono andati gli americani un fatto straordinario che mi ha colpito molto proprio da bambina avevo appena 9 anni e è stato l'ingresso degli americani a Comis era un fatto straordinario perché non me lo sono inventato io e d'altra parte gli americani a Comis ci vengono almeno ogni 50 anni e questo è stato il fatto proprio veramente infatti ho incominciato da questo racconto anche se poi non sono messi in ordine cronologico perché dovevo semmai incominciare da un altro racconto il complesso del nome ma proprio perché è stato questo e che è rimasto vivido nella mia mente questo ingresso degli americani questo vedere carri armati altissimi la vita che cambiò completamente sia per i grandi penso ma soprattutto per noi bambini perché trovavamo nelle scatolette vuote il modo di giocare dalle schede poi non so come è fatto storico perché a volte è la storia che ci dà una mano ma siamo anche noi che diamo una mano alla storia per esempio la confusione che si ebbe allora nelle votazioni del referendum quando le donne andavano a votare forse per la seconda volta ma le donne stesse non avevano piacere di uscire da casa per andare a votare sì soprattutto quelle anziane nei paesi elti una resistenza passiva e poi non so l'autarchia prima ancora al tempo del fascismo qui c'è un racconto spassosissimo come le mamme si meravigliavano perché noi bambini volevamo le scarpe vecchie per portarle a scuola perché altrove al nord si facevano poi pelle nuove e le mamme non capivano come mai si era sempre risparmiato da che mondo è mondo e adesso diventa una cosa così importante ci sono delle io direi che sono proprio umoristici in quanto ci sono dei racconti dove si ride dove c'è questa ironia ma c'è anche un velo di tristezza in molti racconti perché non lo so e sono certo una drammaticità a livello infantile quindi non capito dal mondo dei grandi va bene viene ripresa oggi dall'ottica della curva per esempio la somministrazione della purga che era una sciagura all'epoca ricordo che era una cosa terribile tra le cose più terribili una pratica ecco la straordinarità delle cose minime è questo fatto mentre ai nostri tempi queste cose si usavano ed erano di uso comune e quando le cose sono di uso comune non sono per niente straordinarie a distanza di anni ecco che i ricordi poi si allacciano a distanza di anni quando poi queste pratiche non si usarono più perché adesso nessuno più pensa di calare i verme con l'olio e con la litania oppure oppure di dare l'olio di ricino con varie cose tanto era sempre orribile e quando poi queste cose non si usavano più adesso si usano gli antibiotici che fra l'altro forse fanno meno efficacia non si sa comunque finì la tortura il fatto bello era quelle cose facevano veramente bene no non so se era la litania o era l'olio ah ecco certe pratiche certe pratiche e quindi sono rimaste così vive nella mente e non sono soltanto vive nel mio nella mia fisica no no ma è universale è un discorso è un discorso che ho coinvolto tu questi racconti personali sono anche i racconti di tutta una comunità di tutta una generazione di tutta una generazione di tutta una generazione di una generazione esatti la cosa che mi fa piacere veramente sono sì le recensioni degli amici letterati come lei di Petro Carmelo Lauret tutti va bene questi mi fanno piacere però le dico che mi fa ancora più piacere quando una persona mi dice che anche lei anche io ho vissuto queste cose certo se si è mai chiaro addirittura una signora te lo poteva raccontare prima quello che mi è successo a me quando sono entrati gli americani così tu l'avresti scusata si vede nel metto il soldato americano che è sul carro armato e lì in fondo c'è la mia strada sì sì ma io io me la ricordo perfettamente la strada degli americani è una cosa comune noi eravamo in una campagna sulla strada di Marina e quando il mare si è riempito di navi eccetera siamo rientrati ecco la bambina che sono io vestito da Santa Teresa del bambino appunto perché in effetti ero guarito da un tifo e adesso voglio leggere allora il tifo era pericoloso voglio leggere invece come guariglio da questo tipo non so se possiamo leggere sì 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 consigli buoni e cosuzzi a rucci la nostra elevatrice ronna stella mammana la grande mamma era di casa affezionata perché mamma e papà grazie a Dio per lei erano stati degli ottimizzatori di lavoro quante cose sapeva era peggio di un dottore dove peggio significa meglio certo traducendo da siciliano buoni consigli sempre dava per il tifo un coniglio appena ucciso caldo caldo senza lavato così com'era metà sulla pancia e metà sulla fronte e il tifo passava ve lo garantisco io che passava perché a me il coniglio mi insero quando ebbe il tifo e mi passò qua c'è una asintaglia sì 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 no 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 è uno stile personale è uno stile personale che praticamente poi magari ne parliamo ecco traduce sì prego per i vermi ti facevano stendere sul letto e ti massaggiavano la pancia sempre verso sotto per carità con le mani unte d'olio poi ti lasciavano lievitare per un po' come una pizza prima di infornarla e in questa operazione la litania adatta era l'ingrediente principale la prima cosa che ci voleva e per il dolore alla gola ti scattavano i tulli ancora non so cosa sia non lo so nemmeno adesso una specie di organi che stavano sul braccio sinistro perché te lo prendevano a tradimento e mai per tua volontà e te lo stropicciavano ma forte quante energie avevano gli antichi e tutta prodotta a mano genuina te lo stropicciavano verso l'alto questa volta con i pollici fatti d'olio e se olio non ce n'era buono pure lo sputo anche per questa scattatina di tulli c'era l'invocazione adatta tu ormai che c'eri dovevi solo inghiottire ritmando col massaggio e a voglia di dire basta più basta più ma che quelli smettevano solo quando i tulli davano segno di essere belle scattate tutti i consigli pratici davano a una stella che non costavano niente e il bello era che i mali passavano davvero la parte più difficile era la pratica di strofinare e di imparare a memoria le invocazioni ai vari santi che benignamente si erano accaparrati la protezione delle varie parti anatomiche del genere umano i conigli si allevavano in casa e quando qualcuno di essi scappava in mezzo alle frasche tutta la famiglia ballava la mazzurca per prenderlo ma più prezioso di ogni cosa era lo sputo che a quel tempo si adoperava per tutto per offesa per difesa per odio e chi lo sa forse anche per l'amore per comparatico col pane schietto nell'agricoltura per tenere meglio la zappa fra le mani nell'industria delle sigarette quando queste si impastavano a mano arrotolandone la cartina un po' di trinciato in medicina insomma avevo un largo uso malgrado tutto io volevo bene a ronna stella quando si capisce non avevo il dolore alla gola o quella alla pancia perché quando andava a casa sua a portare un dolce o qualche altra cosa fatta dalla mamma in campo dei consigli ricevuti lei si avvicinava al cassetto più alto del canterano io facevo finta di andarmene ma lei diceva aspetta e io sapevo che cosa doveva darmi calia e fave caliate che a ronna stella mai mancavano perché a fazzolettate gliele davano i clienti quando battezzavano i bambini com'era buona la calia di ronna stella pochina me ne dava tanto che non arrivavo a capire se aveva tanto di cassetto o di naftalina non so ma sapeva di festa anche quando festa non era dicevano che ronna stella fosse tirchia ma a me mi accordava sempre questo racconto è scritto in uno stile paesano cioè se io lo volessi leggere traducendo simultaneamente in siciliano lo potrei infatti ci sono per esempio le dita fatte di olio oppure la scattatina di tulle la cate ma fino all'ultimo mi accordava sempre mi accordava sempre era l'accontentare praticamente ora non tutti i racconti buona parte quelle prime sono scritte con questo stile altre sono scritte con uno stile più discrettivo altre ancora più specifico ci sono delle situazioni abnorme cioè un po' assurde non so queste grida di mia mamma e di mio papà che mi si dicevano a causa mia perché erano andate a finire dentro l'olio quindi dovevano buttare l'olio c'è una frase la ricordo bene che dice che io queste grida me le sentivo passare dal sederino perché ero seduta sul gradino della cucina e quindi la casa si era riempita di urla di grida e queste sono proprio delle frasi cioè è lo stile di fiume questo quasi un po' per assurdo ma che che ho fatto mio sin dentro mi vorrei elevare una curiosità per favore me lo dici che cosa sono i turle i turle signore bravo siccome lei l'ha detto che non lo sa che cosa è bravissima e allora nei polsi sopra i polsi ecco bravo bravo dove l'entra le dita lì si gombiano dei muscoli che come che aderiscono la gola quindi fa male la gola e gombiano queste chiamate i turle e io già le tolgo sì però giusto la tua parola si deve inghiottire mentre che uno fa questo massaggio si inghiottisce ecco e questi sono i turle sono lo stesso quando c'è il torticollo e c'è il torticollo perché fa male il collo non si può alzare e invece si scatena della spalla è un nervo che si accavalla alla spalla ah ecco quindi ho capito la grazie è che tanto ragusana non so se da ragusa voi altri sì 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 è bravo è tanto ragusana mi conosco ho capito benissimo ma lei si può dire il suo nome non è che lei come si chiama sono il parrucchiere senza di Vittoria ah ho capito allora telefona da Vittoria ho capito benissimo ho capito va bene la ringrazio per il suo intervento prego se non ci sono bisogno non è il scopo dell'utro sì 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 esatto esatto va bene è un giorno che uno ha e lo vuole sfruttare va benissimo va benissimo buonasera grazie pensavo che se non ce ne fossero più di queste ecco invece ancora ci sono abbiamo visto che poi probabilmente esiste una scientificità in questo intervento c'è che magari ecco loro non si sanno spiegare però però c'è chiaramente giustamente come diceva lui ecco è fatto del torcicollo è un nervo è un nervo allora noi mettiamo la pomata mettiamo e dopo due giorni c'è ancora il torcicollo e poi passa piano piano però evidentemente se si conosce il punto preciso dove intervenire ci si hanno determinati risultati che bellezza i murticelli questo si tratta della cerca dei doni certo che chi non lo sa vedevo la mamma tutta lottata un fazzoletto nero hanno dato sotto il mento una veletta larga nera di sopra lo scialle nero sulla testa i guanti neri anche sera d'estate le calze pesanti se poteva anche il viso avrebbe tinto di nero per il dolore mamma perché piange le chiese è morto il mio papà e poi che diventa morticiello dovete rimanere sorpresa la mamma da questa mia interessata speranza che la distorse per un po' dal suo dolore certo e che mi ha portato a bambola se tu glielo dici te la porto io voglio a bambola a cucinetta i pignatelli usa l'ottino e poi aspetta si quante cose vuoi se ti porta la bambola è assai e quando me la porta per i morti quando domani no ancora siamo in aprile ci vuole tanto tempo e allora quando l'altro ieri tu non ti preoccupare quando sono i morti troverai i giocattoli fai la brava se no troverai carbone e io faccio la brava ma come li prendono i morti i giocattoli se ne vanno di notte dai negozianti e glieli rubano e come entrano i morti entrano anche con la porta chiusa io voglio la bambola la cucinetta i pignatelli l'usolottino la mamma ancora poi vediamo diceva la mamma la sera ricordavo ai morticieri i giocattoli che volevo e l'elenco si allungava sempre di più finalmente veniva la festa dei morti la mattina si doveva digiunare se si mangiava si trovava carbone già mangiavo pochissimo per natura e era una piccina peliosa la mamma non ce la sentiva di farmi digiunare e ricorreva ad uno stratagemma veramente si digiuna ma se mangia nel sottoscala al buio loro non ti vedono tieni mangia questo pezzo di pane inciappato quando finisci vieni io esegluivo tutto bene avanti diceva la mamma ora cerca cerca dappertutto perché i morti sono capricciosi i regali li nascondono bene se non li trovi loro se li riportano si listava in me una carica di sfida una competizione contro i morti per vedere chi era più furbo se loro erano beffardi e misteriosi io dovevo essere perspicace attenta e viva solo così avrei conquistato i doni incominciavo a cercare io davanti e un codazzo dietro mamma e fratelli che mi esortavano gioiosi a guardare ora qua ora là il guaio era che la mia casa era immensa quando avevo finito di cercare in una stanza dovevo ricominciare a cercare in un'altra a volte la mamma rimaneva in un'altra stanza e mi chiedeva cosa hai trovato niente ancora rispondevo molto delusa ma sicura che le cose dei morti c'erano in qualche parte cerca cerca vedi dentro le scarpe di papà oh oh a pampola com'è bella cerca ancora cerca aiutato dalla mamma trovavo le cose dei morti nei posti più impensati dentro l'omberlo chiuso dentro la tasca del grembiule dentro la cartella della scuola ma come pensavo poco fa l'ho aperta e non gira niente trovavo là due forme di mostata qua una forma di marmellata la frutta martorana una maglia nuova un paio di scarpe nuove due quaderni un pezzo di carbone che serviva in mezzo a tutta quella gioia a darmi un senso di colpa e poi trovavo calze precise della mia misura ma da leste morte oh oh a cucinebbe mamma a cucinebbe informavo la mamma che credevo ignara di tutto ogni volta era un grido di gioia come aspettavo quella gioia che era preceduta da un anno di speranza e seguito da un altro anno di soddisfazione la bambola crebbe con me fino a dodici anni sempre quella però diventava sempre più brutta più la lavavo e più si scoloriva quando la vestivo le usciva la paglia della pancia le confezionavo tanti vestitini con l'ago il filo e le pezze le cantavo quando nascissi tu nascio io ai morti ci credevo davvero e ci credetti fino ai dici undici anni era tempo di guerra e di dopoguerra i negozi erano sprovvisti di tutto era un problema trovare giocattoli per me mio papà ogni volta che venivano i morti mi cantava una filastrocca per farmi aprire gli occhi alla verità visto che la verità ai bambini non si poteva dire chiaramente dalle venne can non c'è mi stanno in menaglia i padri accattano i mammi ammucidi i figli giovani i morti e a festa rei vive rei vive i cani i piccioli non serviva a niente non mi sfiorò mai il sospetto che gli autori di così gradite beffe fossero i genitori ero proprio tenaci mio padre diceva a mia mamma ma che cretina questa glielo ho detto chiara e tonda e lei non capisce lasciala vivere così felice e beata potessi tornare io bambina quando aprirà gli occhi troverà che la vita è fatta di dolori e sacrifici così la mamma giudicava l'esistenza umana la rabbia di mio padre era che più crescevo e più ci credevo contrariamente a tutti gli altri bambini di solito i bimbi verso i 7-8 anni al massimo scoprono la verità o perché la capiscono da soli o perché vengono scannaleati da bambini più grandi e quando sanno la verità sono orgogliosi perché sapere la verità vuol dire essere cresciuti essere furbi smascherare le fandone dei genitori che possono prendere in giro solo i bambini piccoli perché sciocchi creduloni sapere la verità vuol dire superare la loro imposizione ribaltare una situazione di dipendenza mettersi allo stesso livello dei genitori lo sappiamo dicono soddisfatti siete voi mamme a comprare le cose non i morti e con questa scoperta perdevano allora i regali la cosa buffa era che questa scoperta di solito avveniva pochi giorni prima dei morti le mamme che ormai avevano comprati i giocattoli volevano convincerle almeno per l'anno in corso a crederci ancora ma i bambini per dimostrare la loro furbizia rinunciavano anche ai giocattoli ci fu più di un caso in cui le mamme portavano indietro i giocattoli ai negozianti lo scomunicato ciò usato che fa mucangia ci pigli un'altra cosa ciò utile per me invece era al contrario ci provavano tutti a farmi capitolare ma io niente non mi convincevo tutte le mie compagne non ci credevano più ma pensate se la mamma cercavo di convincerle a credere ancora con tutti i lavori di casa che ha esce per andare a comprare una bamba lasciamola perdere concludevano le compagne proprio piccole ma una volta e fu anche l'ultima che trovai le cose dei morti successe quasi un dramma mentre cercavo da sola nelle stanze del piano superiore senti squillare una trombetta mamma mia i morti ci sono provai a guidare ma la voce non usciva corsi giù dalla mamma con le gambe tremanti ero pallida fredda spaventatissima avrei potuto vedere i morti fino ad allora dei morti mi interessavano solo i regali anche perché loro operavano di notte quando io dormivo ora invece erano presenti altissimi luminosi e intangibili fantasmi provai all'improvviso una sensazione di macabro e di orrore la mamma si preoccupò vedendomi bianca come un cengio col cuore che mi batteva forte forte col pericolo che mi venisse un attacco di vermina di cui soffrivo mi presse sulle gambe mi confortò cercando di calmarmi basta disse questa storia si deve finire ascolta non sono i morti a far trovare le cose siamo le mamme a suonare la trombetta è stata la svergognata di tua sorella che l'ha voluta suonare per forza svanì così l'ingantesimo della favola bella lunga quando tutta l'infanzia da lì a Venica ci sono i soldati americani mi gridava mia sorella dal balcone che dava sul corso e intanto si avvicinava verso la cucina dove ero io che c'è dicevo attraversando le stanze per arrivare al balcone i soldati americani quelli per me che avevo nove anni erano soldati come gli altri che avevo visti prima tedeschi e italiani con una divisa un fucile e un casco in più questi erano stanchi sudati e pieni di polvere sotto il sole caldo di luglio camminavano in due file sotto i marcipiedi del corso nel mezzo facevano i loro ingressi trionfali grossi e alti carri armati questi sì sono carri armati non i nostri piccoli fatti dell'agd la potevamo vincere la guerra così le persone si parlavano con gli occhi timidi e paurosi piano piano con indifferenza scendevano dalle strade trasversali verso i marcipiedi come se si trovassero per caso a camminare quelli che abitavano lungo il corso si affacciarono ai balconi con un po' di timidezza prima ma con più sicurezza di quelli che stavano lungo i marcipiedi una mamma disse che sai mo figlio nessuno senza ma muzza come un chiste che a me parmi ci sconsolati tutti l'auce ed entrando in casa presi dal cassetto un lenzuolo bianco e lo stessi al balcone per dire ai nemici che noi non facevamo loro del male qualcuno batte le mani dopo un po' tutti battevano le mani e le donne stendevano lenzuola bianca ai balconi nel corso nel tratto dove ancora gli americani dovevano passare si preparavano già ad una festa lenzuola bianca ed applausi una festa strana però fatta di paura repressa le certezze del momento e per il timore di un prossimo futuro se fossero tornati indietro i tedeschi gli ultimi sarebbero stati i primi i primi esposti comunque per ora i tedeschi non c'erano e gli americani non facevano paura le armi non le puntavano nei petti ma con gli occhi scrutavano dentro le strade trasversali dentro i nostri occhi dentro le nostre armi non sapevano non sapevamo cosa volessero e quella loro calma la loro lenta marcia la loro stanchezza si poteva risolvere dalla grazia e la vinciata in vendetta da vincitori i comissari ci tenevano a non far vedere la loro paura ed applaudivano non tanto agli americani e a tutto ciò che stava avvenendo ma loro stessi alla loro paura che stavano trasformando in festa tacitamente si erano messi tutti d'accordo con lo sguardo che al primo colpo si sarebbero allontanati e avrebbero chiuso i loro balconi ma erano certi che quel primo colpo non sarebbe partito se la festa fosse stata sicura e senza esitazione stavamo affacciati con gli occhi ansiosi e i muscoli pronti a far rintanare i corpi non certo serenamente appoggiati alla rinchiera come quando si vede passare il santo patrono anche loro però nello sguardo sorridente ostentavano paura forse si credevano in trappola e sotto quegli applausi procedevano cauti i guardinchi dalla fila un soldato chiese ad un uomo che si sentì il più superbo della terra se c'erano tedeschi e quello col dito disse di no gli altri uomini ora guardando con interesse l'interlocutore degli americani ora guardavano con interesse l'interlocutore degli americani vicino a casa mia dei soldati stanchi finiti sotto quel sole caldo di luglio si sedettero sui marciapiedi un comisano più coraggioso degli altri comisani ma molto timido nei confronti degli americani si avvicinò ad essi con una bottiglia di vino ed un bicchiere riempito il bicchiere lo porsi ad un soldato questi pur vedendo l'offerta non beve subito ma ordinò all'uomo di bere per primo solo allora il soldato beve lo stesso vino dallo stesso bicchiere bevero tutti i soldati che erano lì i curiosi si avvicinavano un po' guardinchi il bicchiere che l'uomo riempiva passava da bocca in bocca e l'orrore dei microbi per cui a casa loro non bevevano dal bicchiere della mamma o della moglie era meno forte della loro paura e della loro stanchezza almeno per quel giorno in Sicilia quel primo giorno di marcia dopo lo sbarco quando ancora la loro sorte era incerta la nostra paura e la loro paura ci fecero sentire fratelli ora davano agli uomini sigarette e ai bambini caramelle quando ci rassenerammo che i nostri reciproci doni erano sinceri e non facevano del male gli applausi della paura cessarono e nei cuori nell'aria si stabilì una festa di sollievo e di ringraziamento a Dio e al patrolo San Biaggio perché l'avevamo scampata quel giorno l'11 luglio 1943 seconda domenica era destinata ad essere festa perché si sarebbero dovuti svolgere i festeggiamenti in onore di San Biaggio e invece entrarono gli americani la festa di San Biaggio quell'anno non si fece il giorno stesso dell'occupazione un soldato americano distaccatosi dal gruppo e con una carta topografica in mano si diresse verso la parte alta del paese sicuro andò a bussare dritto dritto alla porta di una casa la gente spiava da dietro le porte ed aveva paura ma più di tutti ebbe paura la vecchietta che abitava in quella casa la quale si vide a tu per tu con l'emico questi la chiamò nanna sogno figlio la nonna piangeva e il nipote l'abbracciava e con il saluto della figlia che mancava da Copis da 30 anni la nonna ricevette caramelle e sigarette dall'esercito americano gli americani ma gli americani tutti figli italiani sono quasi tutti figli di emigrati siciliani ma si io ho tanti parenti a New York a Patterson gli americani sono cosa nostra gli inglesi magari no ma gli americani sono come i bambini subito si entusiasmano e poi che gentilezza sono entrati sono nemici e ci trattano come amici noi italiani invece e poi noi comisani nella terra del nemico chissà quante sopercherie che avremmo fatte siamo stati fortunati che sono venuti gli americani essi sono ricchi ora si che possiamo mangiare pane bianco e comprare le cose senza tessere e poi l'altra fortuna che se ne andarono in tedesco proprio il giorno di San Biagio San Biagio si è aiutato così andavano commentando le persone rasserenandosi e pensando che quasi tutti gli americani erano figli di emigrati siciliani loro mezzi parenti si sentivano più sicuri quasi vincitori anche loro alcuni tanto si sentivano sicuri con la forza delle loro spalle scardinarono la porta di un magazzino tedesco strapieno di indumenti di oggetti vari e si dettano a portare via tutto quel ben di Dio che i tedeschi avevano abbandonato che non era di nessuno che agli americani non serviva di certo perché erano ricchi e che perciò parteneva ad essi che ne avevano bisogno anche altri si sentivano il diritto di averne bisogno e successe una tal baronda di risse di voce che gli americani che non erano ancora arrivati all'annunziato ritornarono indietro pensando di stroncare una scaramuccia diretta personalmente alle loro spalle quando capirono di che cosa si trattava si rassicurarono anche loro e cercarono di mettere un po' di ordine ma malgrado la loro vigilanza la gente che per un po' si chietava e per un po' si rompeva con più forza riusciva a portare via molte cose questi assalti durarono per più di otto giorni per quando alcuni americani si fossero stanziati nello stesso magazzino quando lo ebbero svaleggiato bello e buono le persone si chietarono veramente e con gli americani ebbero rapporti più amichevoli le buone sigarette americane spandevano nell'aria il loro profumo di tabacco genuino e caratteristico i mocciosi leccavano caramelle con il buco a non finire dopo qualche giorno un soldato amico di mio fratello conoscendomi mi prese in braccio perché rossomigliavo tanto alla sua sorellina si disse subito che di Mussolini e di cose fasciste non si doveva parlare per non fare dispiacere i nostri ospiti che buoni e cari erano ma non sapevamo fino a quanto e noi abbandonamo Mussolini il fascismo tre mesi prima dell'8 settembre nessuno ce l'aveva proclamato ognuno lo capì da sé i prezzi cominciarono a salire e i nostri soldi non valevano più niente circolavano certe carte monete speciali scritte in americano e incominciarono in gran lazzo i comissani di natura affaristi e laboriosi ora che ogni che ogni tipo di lavoro era fermo videro in esso non solo un mezzo di lavoro alquanto redditizio ma una specie di vocazione tutti diventarono intrallazzisti c'era pure un tipo di intrallazzo organizzato dalle donne che avevano i mariti in guerra la loro casa diventava una vetrina dello scambio in mancanza di cibo e di indumenti necessari tutto il resto diventava superfluo un letto di ferro una rete un mobile si cedevano in cambio di un indumento o di qualche scatoletto di carne americana il valore materiale del baratto non era reale ma contingente per quel tempo ad esempio un paio di scarpe usate avevano più valore di un comore originale dell'ottocento una coperta con cui confezionarsi un cappotto aveva un valore inestimabile inestimabile non so quale utile avesse la donna che organizzava tutto questo ma certo è che essa riusciva a mandare avanti la famiglia in questi strani negozi gli americani venivano a comprare i souvenir comisani che pagavano molto bene erano dei fazzoletti ricavati dalla seta dei loro stessi paracaduti e in un angolo mi era ricavata la Sicilia e qualche scritto americano questo era il lavoro cui si dedicavano le donne comisane in quella festa dove tutti si impegnavano a vendere qualcosa agli americani persino la seta dei loro stessi paracaduti che essi non riconoscevano più in quei negozi si potevano avere in cambio pezzi di seta di paracaduti americani e filo di seta di paracaduti resistentissimo che uguale non se ne era visto nemmeno prima dell'autarchia era di nylon con questi tessuti si confezionavano sottovesti mutandine camicette per donne e anche vestiti per uomo erano fantastici per quei tempi ma nessuno si badava era fortunato che l'aveva un vestito anche di seta di paracaduti i negozi di tessuti erano chiusi da tempo c'erano aperti solo i negozi di scarpe non per vendere scarpe ma zoccoli di legno questi venivano confezionati anche in casa inchiodando i pezzi di pelle di vecchie borsette o strisce di stoffa lavorate a mano tutti andavano in giro con questi zoccoli anche d'inverno senza calze tutti sembravano turisti in vacanza in zona baleare vennero gli americani e molte volte il pane ce l'ho dietro bianco ma bianco che sembrava peccato mangiarlo per noi finalmente la guerra era finita adesso le mamme e le spose aspettavano i loro uomini dal fronte ma il tempo passava e quelli non venivano nemmeno notizie venivano il postino non passava neppure e le mamme aspettavano aspettavano mesi e mesi anni quanti figliolli lontani ma dove erano erano vivi o erano morti le donette non si sapevano spiegare come da noi c'era la pace e i figliolli erano in guerra gli uomini che erano a comis erano in festa e i giovani in guerra forse morti ma intanto da noi la guerra non c'era e si cercava di fare baccano più che mai un po' per ricreare lo spirito depresso dopo una guerra e un po' perché da quel baccano si traevano buoni guadagni gli americani volevano divertirsi e i comisani furbi organizzavano per loro feste da ballo non nelle loro case però ma in locali presi in affitto dove non portavano né le loro mogli né le loro sorelle solo gli uomini ballavano con gli americani per poter cambiare con esseri fruttelle vino, arance con scatolette e cioccolato questa fu la nostra occupazione occupazione non da parte degli americani ma occupazione mentale dei comisani che seppero inventare ad arte liberamente un genere nuovo di scambi economico commerciale ognuno direttamente con gli Stati Uniti d'America e tutto avveniva in un clima di frenzia temendo che la festa finisse già poco presti il successo della tua cucina comincia dai tuoi splendidi piatti nuovo ibla piatti super concentrato più mangi bene più ami i piatti puliti ricordo anche io di americano è che a parte la storia dei paracaduti grosso modo poi si un po' dovunque si fosse così poi la perplessità la paura il balcone io ricordo che ero in balcone con i miei che eravamo timorosi con la mamma diceva no sta dentro perché temevano che si mettessero a sparare e così via perché poi a Ragusa successe che qualcuno di loro evidentemente per sbaglio tirò qualche colpo di fucile in aria e gli altri temevano che fossero i tedeschi quindi entrarono guardinchi puntando i fucile eccetera ma poi si resero conto che non c'era motivo comunque ecco quello che conta è questo fresco di una realtà e io vorrei leggere io ora qualcosa dolce cuore del mio Gesù forchettiamo sempre più veramente la maestra diceva facchettiamo tutto così facchettiamo ma siccome io e loro conoscevamo la costruzione sintattica fa che ti ami per me era più familiare pensare alla rotazione della forchetta ed è vero nell'infanzia ci sono delle parole che uno li vede e li trasforma dentro di sé li unisce le modifiche perché non sapendo leggere certo le modifiche già loro la dicono facchettiamo tutto unico non facendo scandire il verbo che poi erano le famose cose del latino poi non ne parliamo di cui rimase nella litania la famosa vasa asigne con devuzione vasa in signe con devuzione eccetera che poi magari che ero che bisognava mettere una scimmia bisognava baciare eccetera e quindi a volte inventavo parole nuove chi fa le scarpe lo scarpano chi fa il pane il panaro no panaro è un gesto allora il panettiere ecco il panettiere grosso disappunto quando la mamma mi disse che quella parola esisteva molto prima di me che curiosità mi metteva addosso quel manovale che con un bastone girava in un busto una massa bianca e ricotta mi diceva me ne dai un po' chiedevo non è ancora pronta quando sarò pronta te la darò i lavori dei muratori a casa duravano ormai da alcuni giorni ma la ricotta non era mai pronta quando il manovale si allontanò affondai la mano nella ricotta e la mangiai era calce mi portarono dal dottore cantavo faccetta nera ad un anno così dicono io mi ricordo molto vagamente le innumerevole richieste altrettanto innumerevole esibizioni io ero uno specialista e ne è arrivato l'ambasciatore lo ricordo molto vagamente ma lo ricordo che era di moda a quell'epoca e poi vincere che la cantavamo tutti naturalmente i bambini nel 1937 i comisani affollavano la piazza per osannare Mussolini graziosamente in visita sin qui ma che fascioli intanto sprigionavano per me le travi di ferro del pavimento del palazzo del banco di Sicilia in costruzione grosso disappunto di mio padre che mi voleva invece vicino a lui al balcone affinché ricordassi un giorno con tanto volto prima classe elementare primo anno di guerra i tedeschi occupavano le scuole elementari e noi bambini avevamo le avole presso case private il sabato che era fascista l'orario scolastico era ridotto e i due turni si alternavano solo di mattina un sabato né io né la mamma ci ricordammo che era sabato e che dovevo andare a scuola alle 10 e che dovevo indossare la divisa di figlia della lupa alle 13 al 30 come al solito bussai e ribussai alla porta che trovai chiusa si è affacciato al balcone il padrone di casa infastidito e mi riproverò duramente non ti ricordi che oggi è sabato fascista mi mise a piangere avevo perduto un giorno di scuola una punizione che non meritavo io ero molto attenta a scuola ci andavo volentieri ecco lei ci andava volentieri a me mi ci hanno trascinato fin dall'asilo ho protestato aspremente e direi che negli anni non è che ho cambiato molto no no io invece anche come maestra ci andavo volentieri dicembre 1944 fui distratta mentre studiavano la mia cameretta da uno strano vocio di folla in tumulto sempre più distinto un corteo di uomini che si dovevano sentire dei titani ribelli o titani i soli che dimostravano di avere una ragione valida fra tanta confusione politica e militare di allora decisi a deporre tutte le autorità erano i nonzi patti sventolavano la cartellina rosa del richiamo alle armi non volevano più continuare la guerra per otto giorni furono gli eroi della Repubblica di Comiso poi languirono nelle prigioni di Ustica e di Priolo per quasi due anni fino all'amministia del 2 giugno 1946 circa un mese fa noi abbiamo fatto qui una trasmissione con Pippo Gurrieri un giovane che è autore di una di una storia a fumetti no di una storia a fumetti sul non si parte dove si ispira in parte a una donna di Ragusa di Maria Occhipinti ma parla anche della Repubblica di Comiso di Josefa che poi abbiamo avuto una telefonata dalla stessa Occhipinti che abita a Roma e che era stata abbattita e c'era che ci telefono la mamma raccontava che le sue due nonne erano molto diverse fra loro una non molto ricca ma generosa l'altra molto ricca ma amara ma avara non amara ma avara la prima di sue spontanea volontà prendeva una bella forma di pane se la avvicinava al cuore e col coltello tagliava una grande e grossa fetta di pane e gliela dava la seconda quella più avara se la bimba chiedeva del pane faceva finta di non sentire o glielo prometteva finito il lavoro che aveva nelle mani ma i lavori si ricercava tutti lei dimenticandosi delle promesse ma quando proprio non ne poteva fare a meno dietro le calde insistenze regalava alla nipotina una fetta di pane sottilissima e trasparente la bambina mettendosela davanti agli occhi si divertiva a guardare oh nonna vedo la casa di fronte vedo il cielo vedo la pergola che mastra la nonna vara e ecco questi fanno parte dei ricordi posso leggere questo della panificazione che si faceva a casa ecco questo qua è un altro seduta come su un drone in testa all'abrivola la mamma con le sue mani portava un pastone sotto a un brione che i miei due fratelli con molta energia alzavano e abbassavano sulla pasta si formava così in un ritmo di suoni e di movimenti cadenzati fra i tre che non dovevano distrarsi minimamente pena l'ammaccatura delle mani della mamma o lo sbilanciamento dell'abrivola per tenere il ritmo ma soprattutto per ringraziarsi l'occhio di Dio la mamma recitava delle preghiere in dialetto specifiche per la panificazione con una metrica sonante con tali movimenti a me cercavano di tenermi lontana per non essere distolti dall'attenzione che l'operazione richiedeva ogni tanto io irrompevo in cucina mandando all'aria ritmo lavoro e preghiere mamma mi dai un po' di pasto no la grazia di Dio tu la sprechi solo un po' mi metto lontana do scaneature e mi faccio la acudire e va bene tieni non la sporcare e la grazia di Dio poi te la inforno e mi accontentava anche per riprendere subito il lavoro la pupida che facevo era piccola poiché poca era la pasta era bianca era morta secca secca minuscola molle molle una cosa da buttare se non fosse stata grazie di Dio la mamma infornava il pane ad uno ad uno io le stavo dietro in paziente per farmi infornare la pupida che teneva in mano mi rimproverava perché lì era tutto un pericolo la braccia calda che poteva stranipare dalla tannura la pala col manico lungo lungo che mi poteva colpire poiché la mamma guardava dentro il forno a scupare un forno bruciacchiata e affumicata uscita luce caldo all'ultimo infornava la mia cudereta signore facite tutte cose voi che io non ho fatto niente era l'ultima invocazione a Dio quando la mamma che si era alzata alle cinque e aveva lavorato per tre ore metteva la valata di ferro alla bocca del forno facendo un largo segno di croce un secolo ci voleva per togliere la valata e rivedere la pupita finalmente la mamma sciunnava tutti i panni e la mia cudereta calda calda che non si poteva toccare come era diverso nel forno era diventata bella colorita più grossa più gonfia più alta stava bella diritta era cresciuta davvero Dio aveva soffiato la sua grazia sembrava sembrava peccato mangiarla e lei può considerarsi fra i migliori scrittori della provincia io non lo dico pubblicamente lo sto dicendo pubblicamente non penso che sia così non è chiusa la telecamera dico io lo sto dicendo pubblicamente ma io lo dico non per farlo ma proprio io non credo a questo sono venute fuori così non lo so c'era un folletto perché io quando scrivo queste cose fra l'altro non avevo nemmeno tempo perché come giustamente ha detto lei essendo donna avevo tante altre cose facevo la maestra facevo la donna di casa tutti i mestieri di famiglia e quindi quando però sentivo il bisogno di esternale adesso questa parola è diventata di moda nel senso buono e mi alzavo anche la notte a scrivere queste cose e le dirò che in certe cose piacevano ridere anche me quando le scrivo adesso io non so nel tempo a venire che cosa succederà aspettiamo che il folletto si sveglia ecco cioè lei non ha scritto ecco io sono una di quelle che non scrivo forza di professione e nemmeno scrivo perché così perché adesso che ho scritto devo scrivere per forza non non so non so se viene l'argomento se viene la voglia se viene anche lo stimolo stilistico perché è lì che bisogna certo bisogna adattare contenuto e forma che è forma che c'è che c'è Grazie.